Musica Questa volta siamo nel sud dell'Italia, in Puglia, e precisamente sul Gargano, a Monte Sant'Angelo. Dal centro tipicamente medievale, sorto intorno al santuario di San Michele Arcangelo, il caratteristico paese si è sviluppato intorno al 500 d.C. e oggi è meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Il tipico tessuto edilizio è costituito da abitazioni unifamiliari, distribuite sui vari livelli di un terreno scosceso e collegate tra di loro da stradine e piazzette deliziose. Il rione Yuno è di certo il quartiere più antico e affascinante. A caratterizzarlo sono le bianchissime abitazioni a schiera, intervallate da archi e scalinate, composte da un solo vano e affacciate su piccoli cortili antistanti. La loro struttura ricorda le antiche logge arabe e rispecchia le tradizioni della regione, legate a un'edilizia spontanea di tipo rurale, dove il legame comunitario e la solidarietà avevano una profonda rilevanza. Arrivando nel paese di Monte Sant'Angelo, sopra lo Yuno, spicca, maestosa sulla montagna, una struttura di mole gigantesca. Una fortezza munita di robuste cortine e poderosi torrioni cilindrici. L'edificazione del castello di Monte Sant'Angelo ha avuto origine negli anni 837-838 d.C. Ma il suo nucleo originario ha subito, nei secoli successivi, continui ampliamenti e rifacimenti, sotto i normanni prima e in seguito per mano degli angioini e degli aragonesi. Dal castello si apre una spettacolare vista che scopre, ad est, l'antico santuario dedicato a San Michele e Arcangelo. Secondo la tradizione cristiana, è simbolicamente affidata a Lui l'eterna lotta fra il bene e il male. È proprio Lui che, a capo delle milizie celesti, è l'unico, oltre a Dio, in grado di sconfiggere il demonio. La venerazione dell'Arcangelo Michele risale già all'Antico Testamento, dove viene riconosciuto come una guida spirituale e il difensore di Israele e del popolo ebraico. Il santuario a Lui dedicato fu costruito tra la fine del V e l'inizio del VI secolo, a seguito di una serie di apparizioni dello stesso Arcangelo. E' uno dei luoghi di culto più visitati di tutta l'Italia, per il forte impatto visivo ed emotivo e la capacità di testimoniare la potenza della fede. Nel 2011 l'UNESCO lo ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E' considerato un luogo unico al mondo, di particolare interesse storico e dotato di una forte spiritualità, percepibile non appena varcata la soglia. Sono molti i misteri mai svelati che riguardano il santuario. Sarebbero legati ad antichi giuramenti tenuti nella più totale segretezza. Per oltre quindici secoli i pellegrini di tutto il mondo hanno attraversato montagne, pianure e vallate con enormi sacrifici per arrivare in questo luogo, nella grotta dove riporre speranze, preghiere e implorazioni. All'interno della grotta, davanti all'altare, si trova la splendida statua dell'Arcangelo, alta a 130 centimetri e scolpita nel marmo bianco di Carrara. Proprio sotto a essa è visibile l'impronta del piede di Michele, lasciata in questo luogo durante una delle sue apparizioni. È qui che mistero e fede si fondono in un'atmosfera unica di profonda sacralità.